Martedì 14 marzo, giornata così così, però né fredda né piovosa. Sono le 10 e qualche minuto, io ne approfitto per bere una goccia di caffè perché a quest'ora ci sta. E voglio continuare a parlare, ormai lo faccio da una settimana circa, di ciò che sta succedendo sulle nostre coste italiane, sia sicule che calabrese. Le scene che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto ieri sera, sono terribili. C'è il punto di accoglienza in Sicilia, che ovviamente se non si parla con i nuveri le parole diventano inutili. È un posto, quello siciliano, in cui ci possono andare bene discretamente 400 persone. Attualmente ci sono 3000 più persone. E le forze dell'ordine non sanno come muoversi. Le scene che abbiamo visto ieri sera, i filmati che ci arrivano, e grazie a Dio che questi giornalisti qualche volta ci fanno vedere la verità, è impressionante. Come stanno 3000 persone ammassate neanche nei campi di concentramento ai tempi di Hitler. Scene che io non immaginavo mai di rivedere. E tutto questo avviene nell'indifferenza nazionale. Un'indifferenza che passa sia dai cittadini, ma soprattutto da chi ci governa. Che cosa fanno i politici? I politici non fanno altro che litigare in televisione. Io mi chiedo dov'è la volontà del popolo? Mi chiedo dov'è la sovranità del popolo italiano? Forse non ci sarà più, ma non c'è più e si vede perché il popolo non è sovrano, il popolo non decide. Perché se il popolo deve decidere attraverso questi burattini che abbiamo, che avete perché io non ho votato, che hanno votato al Parlamento italiano, possiamo stare tranquilli e freschi perché non cambierà niente. Loro pensano a fare quelle smargiassate, quelle commedie attraverso i litigi in televisione. Dopodiché non dicono altro. Non gliene frega niente perché non gliene può fregare niente. in quanto si beccano la bellezza di 15-20 mila euro al mese. Perciò, oltre che aprire bocca e far pigliare un po' di aria a queste bocche, loro non dicono più niente. E noi italiani, questi tizi che stanno al Parlamento, governo compreso, li dobbiamo mantenere. Questi sono dei mantenuti inutili. Ieri sera io ho sentito una tizia che chissà da quanto tempo è in questo Parlamento, perché parlava dei fatti quando c'erano loro, perché qua siamo loro e noi. Qua è una situazione peggio della mafia. La mafia chiama cosa nostra. Questi invece si chiamano noi e loro. Dici, quando c'eravamo noi abbiamo fatto questo, questo e quest'altro. E quando c'eravamo noi, lei compresa questa tizia, si parlava di 8-9 anni fa, perciò da quanti anni una tizia, dico di ieri sera, che oltre a dire bla 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 e a prendersi 12, 13 e 15 mila euro al mese, da quanti anni, senza combinare niente, cioè parlava di ciò che aveva fatto la sinistra, quando nel periodo, in quel periodo che parlava lei, c'erano state più stragi di oggi. E allora, in questo momento straordinario, terribile, dovrebbe entrare in scena il popolo sovrano. Io sono convinto che tutto ciò che si vede, tutto ciò che sta succedendo, le stragi, gli sbarchi a livello industriale, che ormai sono senza niente, non si fermano più, tutte queste cose, il popolo italiano, che dovrebbe, dico metto il condizionale, dovrebbe essere sovrano, non ne può più. E se vengono intervistati i cittadini, cosiddetti italiani, non c'è nessuno che voglia restare con questi tizi che si chiamano europei, e che noi chiamiamo Unione Europea. Nessuno, perché noi stiamo perdendo la nostra sovranità, il popolo non è più sovrano, l'Italia, già è labile da un punto di vista di società e di popolo, con quello che sta succedendo, non esiste più. Cioè, io mi chiedo come si possono accettare quelle scene che vediamo, grazie a Dio, che da tempo ci fanno vedere, in maniera serena, sentendo questi burattini che si ammazzano in televisione facendo sceneggiate, e noi che li paghiamo, queste persone che parlano, prendono 15.000 euro, 20.000 euro al mese, non dimentichiamocelo, ma, e non sono soldi che arrivano dalla Svizzera o che arrivano dall'Inghilterra, questi soldi arrivano dalle tasche degli italiani che attualmente non possono neanche mangiare molti di loro, che si devono privare di tutto, e loro, con 15.000 euro e 20.000 euro al mese, fanno i poeti in televisione, gli scrittori, gli intellettuali, dicono minchiate su minchiate, e il popolo deve accettare questa schiavitù, questa schiavitù, cioè di non essere il povero cittadino più parte integrante di questa nazione, fra poco anche noi siamo degli schiavi, dei migranti, perché non ci prendono in considerazione, ma andiamo questi tizi là e non sappiamo se sono arrivate grazie alla nostra volontà e ai nostri voti, se non ci sono gruppi o organizzazioni che mettono su delle persone, li votano attraverso la malavita e poi li mandano là. ecco perché questi non fanno gli interessi dei cittadini, ecco perché questi qua non vedono la realtà, la brutta realtà che abbiamo davanti, ecco perché non pensano mai a cercare una soluzione, questa è la verità, questo sta succedendo in Italia, un'Italia che la stanno saccheggiando da tutte le parti, queste persone arrivano là, molte di loro grazie a Dio arrivano in buona salute, non riescono ad annegare e poi una volta che sono là vengono ammassate e quando se ne vanno, se ne vanno dai quei punti di accoglienza, restano sempre in Italia e vanno in giro vagabondando e cercando di fare qualche furto, qualche rapina e addirittura di accoltellare qualche passante, questo sta succedendo nelle nostre città, questa è la seconda parte di quando questi tizi vengono fatti sbarcare, vivi e vè, diciamo, sane e vivi dai barconi, questo succede, gli italiani ormai vivono nel terrore, in tante città, in quasi tutte le città non si può uscire la sera, a Milano non si parla più di uscire perché le persone vivono nel terrore, a Torino ideme, a Napoli da molto tempo, a Roma Dio che ce ne scansa e liberi, ecco cosa fanno queste persone, quelle persone che vengono accettate, ma a questo punto il popolo deve intervenire, il popolo deve decidere questa situazione, perché ripeto, se aspettiamo questi vagabondi, questi cialtroni che avete mandato o che avete votato, noi non vedremo più la luce in Italia, perché quello che sta succedendo va sempre a peggiorare, in quanto non si vedono soluzioni, sia con la sinistra per oltre 11 anni, e sia questa destra e da quando c'è questa destra le cose stanno pure peggiorando, qua si deve arrivare a una soluzione drastica, drastica, lo ripeto ancora una volta questo aggettivo, deve essere un movimento drastico, voluto dal cittadino, voluto dagli italiani, dobbiamo uscire dall'Europa, questa Europa non ci ha portato niente di buono, dobbiamo riappropriarci di nuovo della nostra Italia e comandare noi italiani, tanto noi ci hanno messo con questi strozzini senza chiedere il nostro intervento, non ci hanno calcolati per niente, quattro individui, quattro individui che oggi non sono più come politici, hanno fatto i loro interessi cercando di farci vedere che l'Europa era la terra promessa, perché prima eravamo in Cina e poi ci hanno portato in Europa e da quel momento che si è fatta questa unione l'Italia ha visto soltanto povertà e si è dovuta accollare tutte le tragedie, tutti gli sbarchi, tutte le povertà e ci hanno messo in condizione da nazione ricca, forte e settima in campo mondiale a fare i mendicanti d'Europa, a chiedere soldi, a metterci in ginocchio, ad essere condizionati e ricattati giorno dopo giorno e allora io mi rivolgo a tutti i cittadini italiani che amano quest'Italia, è il momento di intervenire, dobbiamo farci sentire e uscire da questa Europa che non ci ha mai appartenuta, vogliamo stare lontani da questi strozzini e non avere nessun contatto di nessun tipo, a voi tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti